Un vero piacere ritrovare Francesco Gabbani sulle onde funky, sono venuto a cercarlo nel centro di Milano a pochi istanti dal festival perché sono stata rapita dall'ascolto di Viceversa e sono felice di venire proprio a dirtelo, a testimoniartelo. Grazie Paola, mi riempi il cuore di gioia. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ma perché proprio al primo ascolto, il Rai l'altro venerdì, ascoltando Viceversa ho detto ecco qua, Francesco conferma il profondo amore che nutre verso le parole, quindi non rinuncia a giocarci, però hai confezionato una ballad che vuole dire non sono solo scimmie, amen, cioè non vuoi confonderti, no? Non voglio confondermi, ma soprattutto mi piace l'idea di poter tornare al festival di Sanremo mostrando un mio modo di fare musica che in realtà è sempre esistito, che è un po' diverso appunto dalle canzoni che ho presentato precedentemente al festival con cui in realtà il grande pubblico mi ha conosciuto. Non solo, e che forse da un certo punto di vista sono anche state un po' travisate, no? Perché nel grande successo nazionale popolare che ho avuto di conseguenza la vittoria del 2017, insomma per certi versi un po' sono stato frainteso, no? Che poi una chiave di lettura un po' più profonda forse non è stata colta fino in fondo, quindi credo che sia questa un'occasione per mostrare invece quest'altra mia componente più, se vogliamo, intimista ed emozionale. Ed è stata proprio la canzone stessa, viceversa, quando è uscita che mi ha convinto, mi ha deciso a dire torno volentieri al festival a far ascoltare questa canzone. Fra l'altro in un modo molto semplice, autentico, senza, dico la verità, vado al festival senza voler né tentare di vincere né di dimostrare con delle cose mirabolanti qualcosa, senza messe in scena. Quindi non ci saranno, diciamo, sorprese. No, no, mi presenterò in un modo molto semplice cantando questa canzone che fortunatamente sento molto e l'unica cosa che rimane, che ho, è che sono curioso di capire tutte le persone che magari si aspetteranno, che diranno Ah, Gabbani torna al festival, chissà cosa combina questa volta, ecco, sono curioso di vedere come accetteranno e come prenderanno questo mio altro modo di fare. E poi hai deciso di correre il rischio? Ho deciso di correre il rischio, ma è la, però, sì, ho deciso di correre il rischio. È la canzone che mi ha fatto decidere, boh, perché è talmente per me sincera e, ripeto, autentica che ne vale la pena. Ma non la vivo nemmeno come un rischio perché, da un certo punto di vista, la mia vittoria è già pensare di aver la voglia di tornare su quel palco, anche, se vuoi, destrutturato e spogliato di qualsiasi tipo di maschera. E poi, oltretutto, Francesco, ci pensavo, no? Sia con Amen, quindi sia nei giovani, sia nei bigli, cioè, i tuoi passaggi a Sanremo sono sempre stati dei momenti in cui ti hanno, come dire, ti è arrivata una grandissima attenzione, no? Per cui è anche giusto pensare a Sanremo per dire io sono anche altro, no? Certo, assolutamente, proprio così, perché ovviamente va da sé che la dimensione del palco del Ralston, credo che per chi fa, diciamo, il mio lavoro, che prova ad esprimersi tramite la musica, sia una grande occasione per, in un modo o nell'altro, far vedere e far ascoltare quello che sei, quindi la vivo in questo modo. Io ho avuto il piacere e il privilegio di poter però ascoltare anche il disco che contiene questa canzone, questo viceversa, questa viceversa, e volevo, come dire, tranquillizzare, mi sembra una parola eccessiva, un verbo eccessivo, però lì dentro c'è ancora il gioco feroce di parole, canzoni come, ad esempio, il sudore ci appiccica, no? Per cui, insomma, tranquilli, non è che si è perso totalmente. No, ovviamente. Sempre con qualcosa di importante da dire. Certo, ma sono assolutamente d'accordo, perché del resto, cioè, non è che io sono cambiato nel modo di esprimermi, o sto vivendo una mia evoluzione, però ovviamente il connotato e soprattutto il crisma dell'essere giocoso e scherzoso è anche un po' provocatorio nel porre delle riflessioni più o meno profonde, fa parte del mio modo di essere, ma anche quando passo da... Esatto, che sono fatto così, cioè, passo dal ragionamento filosofico esistenziale a magari la freddura, la battuta, un po' da pirla, se si può dire. A Milano si può dire. Si può dire, si può dire. Sono fatto così, quindi è ovvio che questo aspetto va anche nella musica che faccio, perché la considero sincera. Senti, questo disco si apre con una canzone che io trovo molto epifanica, molto manifesto, no? Questo Einstein. Perché subito, dalle prime battute, racconta, no? Tutto relativo, la voglia di verità, un'osservazione puntuale anche su quello che siamo diventati, no? Che poi è un filo che si può ascoltare in tutto il disco. Assolutamente. Ho scelto di aprire l'album con Einstein, che diciamo che per me è un po' la tematica, il filo conduttore, che ho scoperto a disco chiuso, perché sembra quasi come, non è un album concepito come un concept album, ma effettivamente poi ascoltando tre canzoni a chiuse, c'è effettivamente un filo conduttore che è quello di trovare, di provare ad analizzare il complicato rapporto tra l'individuo e la collettività, quindi tra chi sono e come gli altri mi percepiscono, che per me è importante, è stato importante, soprattutto dopo il successo immediato che è arrivato nel 2017. Non volevo rincorrere a tutti i costi di successo numerico, ma volevo continuare a fare un'analisi mia. E in questo processo, diciamo, di analisi tra l'individuo e la collettività, quindi tra chi sono e come mi vedono gli altri, mi sono immaginato questo punto, questo suggerimento da parte di Einstein che mi dice Francesco, ok, se vuoi capire il rapporto tra individualità e collettività e parlare di condivisione, parti dal presupposto che è, intanto che è tutto relativo, quindi che bisogna vedere dal punto di vista da cui la guardi, ecco, e quindi è un primo presupposto con cui poi parte in realtà l'analisi sulle altre canzoni di altri aspetti di questo concetto. Ecco, una società che sicuramente ha bisogno di misure di sicurezza per migliorare, su questo ci troviamo, come dire, totalmente d'accordo, e anche considerazioni all'apparenza semplici, ma che invece fanno approfondire un concetto, no? C'è il concetto di pace, ad esempio, tanto sbandierato, però basterebbe davvero, come dire, pensarci seriamente, no? Bombe pacifiste. Esattamente, la bomba pacifista è una canzone che, chiamiamola visionaria, è di speranza, no? E la speranza è quella che si ritorni nel contesto in cui viviamo, dove in realtà mi sembra, dico, purtroppo è una cosa che mi fa soffrire, che si è diffusa la tendenza alla realizzazione personale a tutti i costi dell'essere individualismo, i più belli, i più furbi, i più ganzi, che è un termine toscano, però, i numeri uno, a discapito degli altri, anche mettendo i piedi in testa agli altri, ecco, chiedo che in questo contesto il rivalutare delle caratteristiche che in questo contesto sono quasi considerate come debolezze, quindi la timidezza, la sensibilità, la compassione. Poi ha un'etimologia bellissima la compassione. Esatto, la compassione non sono punti di debolezza, ma sono delle cariche esplosive per l'illuminazione personale e per farla diventare condivisione, quindi è un suggerimento, mi auguro che si possa andare più in questa direzione. Che arrivi, visto che dicono, insomma, che la musica a volte sposta più pensieri, no? Di, che so, di un tomo, di un discorso, diciamo, più complesso. Francesco, sono fortunata perché noi ci incontriamo ed sono stati annunciati da poco i duetti del giovedì e scopro, no, le cover, diciamo, del giovedì, che poi qualcuno poteva anche arricchire con degli inviti. E scopro che tu hai scelto l'italiano di Toto Couture, una canzone iconica. Ti chiedo come mai? Ma ho scelto di interpretare l'italiano perché è una canzone che a me intanto piace molto perché ha un po' anche il mio modo di scrivere canzoni, cioè è una canzone che è stata conosciuta storicamente, è una delle canzoni del Festival di Saremo forse più conosciute a livello nazionale popolare, fra l'altro anche all'estero è una delle canzoni più conosciute italiane e che secondo me, un po' come mi è successo a me con Occidentalis Karma, è stata presa un po' alla leggera all'inizio forse perché è stato un po' trascurato quello che invece è il significato vero che ha di riflessione che comunque racconta tutti quelli che sono i crismi, un po' di atteggiamento, i vizi dell'essere italiani che fra l'altro erano realistici credo all'epoca, quindi si parla dell'83, io avevo un anno e poi l'ho conosciuta dopo la canzone, ovviamente non l'ho vista in tempo reale al Festival e che credo che continuino ad essere in realtà validi anche oggi, quindi la canzone continua ad essere contemporanea. Per cui sarà un Festival di Sanremo di totale musica per te, le polemiche non ti interessano, non fanno parte diciamo del tuo percorso a Sanremo? Direi di no, però mi suscitano delle... in realtà mi dispiace, ecco, sono un osservatore sofferente del fatto che all'interno di un evento come, un contesto come Sanremo che dovrebbe essere una vetrina di quello che è il panorama musicale, del nostro trasversale, del nostro tempo che stiamo vivendo, in realtà poi alla fine dei conti diciamo che viene... tanti aspetti vengono strumentalizzati secondo me in maniera fra l'altro spesso generalista e poco specifica. Un po' dell'Italia. Esatto, in realtà per portarla qua al proprio munino io credo questa cosa qui. Fortunatamente la vivo solo come una cosa che mi fa dispiacere ma sinceramente dato che io vado al Festival con l'idea di portare sinceramente la munica ecco non mi tange più di tanto, quindi rimangono solo parole per quanto mi riguarda. Dirige l'orchestra? Il maestro Fabio Gurian. Buon viaggio a Francesco Gabbani, fortunatamente rimangono poi i dischi, non solo i passaggi e i festival e quindi ci ascolteremo volentieri questo viceversa. 14 febbraio, giusto? 14 febbraio, per San Valentino. È un bel regalo, assolutamente. Grazie Francesco. Grazie a te Paola, ciao a tutti. Baci.